Buongiorno a tutti amici e fratelli, Rosa Nero non ci si vede da un po', allora le ultime su Palermo. Il Palermo a sorpresa piazza un colpo dal mercato e si porta a casa l'attaccante Ferdinando Sforzini, un attaccante di quanti anni ha? Ultra trentenne comunque, da un grande bagaglio d'esperienza, perché ha militato in diverse squadre, non in categoria ma in serie B, ha giocato nel Cluj, il Cluj è la squadra che in Europa League ha battuto la Lazio per 2 a 1, non solo, ha due presenze proprio con il Cluj in Champions League e in serie direttanti trovare un giocatore che abbia disputato anche solo qualche minuto in Champions League è semplicemente un onore. Ferdinando Sforzini, attaccante di razza, l'uomo che può sostituire quando c'è bisogno il Ricciardo, sempre che non vada a finire, al contrario, perché il bagaglio d'esperienza di Sforzini è maggiore a quello di Ricciardo. È un po' fuori condizione, lo ha detto lui stesso nella conferenza stampa, perché si è allenato sia a casa ma non ha avuto una squadra con cui allenarsi, il rumore che sentite è il caffè che sta uscendo perché da buon palermitano, prima che ne faccia vaglio, ma pigliare un caffè, il caffè è uscito. Quindi Sforzini e non solo, la seconda bella notizia è che abbiamo battuto il record di abbonati in serie dilettanti, il Palermo ha superato i 10.000 abbonati, facendo il record di tutta la storia del campionato di Serie D. Quindi voglio salutare e voglio ringraziare, voglio veramente dedicare questo ringraziamento a tutti i palermitani rosa-nero che si sono abbonati, che hanno permesso questo, dimostrando che siamo una piazza calda, che siamo una piazza calorosa, che siamo una piazza da altre categorie. Anzi, siamo una piazza da categoria massima, come lo siamo stati in passato e come torneremo ad essere. Ora una piccola notta negativa, io domani alle 15, durante, anzi quando inizierà la partita, contro il Marina di Ragusa in casa, se siete a Palermo andatela a vedere, se non siete degli abbonati prendete il biglietto e andateci perché più siamo e meglio è, io a quell'ora comincerò a lavorare, quindi non potrò vedere la partita su Eleven Sport, potrò vedere soltanto gli highlight, nel frattempo seguirò il risultato in diretta su tuttocampo.it dove ci sono tutte le novità anche di serie dilettanti, quindi lo seguirò da lì, poi dopo gli highlight farò l'analisi sulla partita, ma non potrò fare ovviamente la reaction durante la partita perché non la vedrò. Però vi prometto che se i turni di lavoro non cambiano, domenica prossima alle 15 sono libero e quindi non solo vedo la partita su Eleven Sport, ma faccio la reaction e faccio l'analisi a caldo subito dopo la partita. Quindi ragazzi aspettando di vedere esordire Sforzini con la maglia del Palermo, io vi saluto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Luigi Rosanero, ragazzi nel bene e nel male, sempre Forza Palermo!